Buongiorno ragazze, sempre vestite e truccate nello stesso modo, ma va bene così. Oggi vi voglio parlare di caduta dei capelli. Allora, partendo dal presupposto che dovete stare tranquilli perché una parziale caduta dei capelli è assolutamente fisiologica. Dovete stare tranquille perché ovviamente il capello rinasce, ricresce e tutta una serie di cose. Voglio anche puntualizzare che nel momento in cui sia eccessivamente copiosa, una chiacchierata dal punto di vista medico va fatta. Qui parliamo di cosmesi, ok? Quindi detto ciò. Allora, prima cosa, anzi vi dico anche un'altra cosa che c'entra ma non c'entra. Abbiamo scelto la prima, visto che avevo fatto gli annunci per aiutarci a scegliere, la prima associazione a cui andrà una parte del ricavato del Natale. Sapete che noi ogni Natale, ogni estate, insomma diamo una parte di ricavato a qualche associazione o a più di un'associazione. Ora vediamo insomma come è la situazione. Ed è proprio legato ai capelli perché appunto raccolgono sia capelli che una parte in soldi per fare poi delle parrucche per donne che stanno in chemio e quindi ci faceva piacere insomma dare un piccolo contributo. Detto ciò, allora iniziamo a parlare di caduta dei capelli e vi invito subito a dividere assolutamente la caduta dei capelli e lo spezzarsi del capello perché dobbiamo agire in due modi diversi. Ma iniziamo appunto con la caduta dei capelli. Il primo prodotto ve lo accenno ma poi vi farò un video specifico perché sono tantissimi, sono assolutamente gli attivi di Anarchia Bio che ha fatto questa meraviglia di attivi legati appunto alla routine del cuoio capelluto. Sono 13 se non erro e sono tanti quindi ve li menziono e ve li racconto in un video a parte e spero che vi faccia piacere. Vi parlo subito del secondo prodotto che già conoscete perché anche questo chi mi segue come al solito su Instagram sa che i prodotti utilizzo e sa che io questo lo stra-adoro. È il prodotto, diciamo lo shampoo, il prodotto lavante per capelli tendente e caduta di Mater Natura. L'altro prodotto ovviamente vegan. favoloso intanto perché è molto molto delicato e poi veramente riesce a smuovere qualcosa. Ripeto, miracolo, non esiste però veramente questo. Se avete problemi di caduta di capelli andate a utilizzarlo tanto più che comunque è un prodotto lavante. vi faccio ancora una piccola parentesi, questo è un or del vero, sapete che sono una persona molto diretta. Nel caso di prodotti lavanti, che quindi non vanno a rimanere sul cuoio capelluto bla bla bla, la differenza non è enorme, ok? Nel senso che vi va a supportare un protocollo che però deve essere mirato anche sotto altri aspetti, sotto altri punti, cioè utilizzare uno shampoo anti caduta e pensare che, tac, magicamente tutto si ferma, non può essere, ok? Questo bisogna dirlo. È importante lo shampoo anti caduta perché ci va ad aiutare a supportare tutta un'altra, come vi dicevo, un altro protocollo e soprattutto magari perché è rispettoso, perché fa ossigenare, perché aiuta il bulbo e tutto quello che vogliamo, ma ricordiamoci che è un prodotto a risciacquo. Non lo so, questo spiegone vi può essere utile, però vedo veramente a volte venduti e sponsorizzati dei prodotti come se fossero miracolosi quando bisogna sempre pensare, come vi dicevo anche nell'altro video, a come inserirli in una routine, ok? Quindi assolutamente prodotto promosso, utilizzato per diversi anni, scusate, no perché non so se mi avevo già detto in un altro video, ma ho gli operai di fronte che ogni tanto vengo qui a fare le boccacce e quindi, ma va bene. Allora, altro prodotto, questo anche, Alessia, quante volte ce l'ho fatto vedere? Tantissime, mi piace molto. Io trovo che la saponaria affaccia degli integratori pazzeschi a dei prezzi contenuti, quindi assolutamente se vi capita e avete problemi con i capelli, lui, anche questo, stra-approvato da tutte quelle che lo hanno acquistato, non ce n'è una che mi ha detto, è come se non lo prendessi, no, tutte mi hanno detto che hanno avuto una buona riuscita. Questo è proprio, c'è scritto Hair Vitamin, quindi non vi potete sbagliare, visto che loro ne fanno diversi, diversi tipi per pelle, detox e via così, li potete anche utilizzare insieme e anche di questo vi ho già parlato. Questo veramente vi aiuta, andate a lavorare con la biotina, tra l'altro quindi andate a lavorare dall'interno e veramente anche le unghie hanno benefici con questo, il miglio, il rame, insomma tutte quelle serie di attivi, di ingredienti che ci vanno ad aiutare per questo discorso della caduta dei capelli. Se vi si spezzano, se vi si spezzano, rimanete connessi e mettete, attivate la campanella perché vi andrò a pubblicare anche un video sulla, diciamo, sul fatto che il capello è danneggiato e quindi va riparato perché si spezzano, insomma andremo a fare una bella chiacchierata con dei prodotti bomba. Noi ci aggiorniamo al prossimo video, ciao!